Non è una domanda facile e non ho una risposta immediata, posso così dire due cose. La prima è di seguire delle lauree o dei corsi di studio che consentono di avere una qualifica che è appetibile sul mercato del lavoro, questa è una cosa assolutamente essenziale. La seconda è il maggior spirito di adattamento, il mercato del lavoro, il mondo del lavoro è estremamente cambiato, ci sono dei posti di lavoro disponibili anche oggi che non vengono occupati perché ritenuti socialmente poco elevati e che invece darebbero magari garanzie di stipendio più alte di altri posti di lavoro che vengono ritenuti socialmente più appetibili. Quindi magari meno impiegati, più carrozzieri o più altre figure che oggi, ripeto, di cui c'è bisogno ma che non vengono occupate. Noi abbiamo messo in campo numerosissimi strumenti, a parte il nostro servizio di politica del lavoro che consente di fare preselezione, colloqui e di poter essere orientati all'interno del mondo del lavoro, oltre al sostegno che diamo al consorzio universitario, al polo tecnologico, alle centrali culturali ed educative del nostro territorio, ma penso soprattutto a due strumenti, lo work experience che è un modo retribuito per entrare in azienda, irrobustire le proprie competenze e poi magari essere anche assunti, ricordo che il 72% del work experience viene trasformato per un contratto più stabile, e dall'altra parte un incentivo importante a favore delle aziende per assumere i giovani laureati, un contributo che arriva fino a 12 mila euro per l'assunzione di un laureato all'interno di un'azienda. Anche in questo caso, che è un'esperienza molto importante perché rafforza le proprie competenze e ci fa mettere in contatto con altre esperienze e con altri mondi, abbiamo lo sportello Europe Direct, che è uno sportello importantissimo, cioè lo sportello di politiche europee, che consente di poter fare esperienze lavorative o di studi all'estero e quindi credo che sia un'opportunità da non suppare, anzi da sfruttare al volo. C'è del vero come c'è del falso, ci sono dei ragazzi che sono effettivamente dei bamboccioni, ma ci sono anche dei ragazzi che si rimboccano le maniche. Il momento economico è estremamente complicato, non è semplice in questo momento uscire di casa e crearsi una vita autonoma, perché bisogna fare i conti col pranzo, con la cena e con il denaro indispensabile per condurre una vita dignitosa. È vero che talvolta i genitori sono iperprotettivi, ma è anche vero che ci sono ragazzi molto giovani che hanno dimostrato di essere in gamba, di essere una preziosissima risorsa non solo per la nostra comunità, ma per la regione e per l'Italia intera. Occorre però aiutarli, fare in modo che chi vuole effettivamente contribuire alla crescita del suo paese possa avere le risorse, gli aiuti, l'appoggio indispensabile da parte delle istituzioni, e chi non vuole ovviamente poi non può rivendicare dei diritti. Quindi più meritocrazia anche verso i giovani. È una dimostrazione di come tanti ragazzi non siano bamboccioni. È un'opportunità che viene offerta ai ragazzi delle scuole superiori di svolgere dei lavori che sono di pubblica utilità, nel senso che vanno a diminuire i costi dell'ente pubblico. Dipingere una scuola, tenere pulito un parco, fare le manutenzioni delle strade, oppure altri lavori all'interno della provincia. Ricevono un microstipendio, vengono responsabilizzati, dimostrano di avere voglia di lavorare, di essere utili alla propria comunità e contemporaneamente con questo microstipendio pesano molto di meno sulle spalle dei genitori, soprattutto d'estate. Quindi consente loro di smentire questa fola dei ragazzi che hanno voglia di fare poco, ma dall'altra parte anche magari di pagarsi le proprie vacanze o di pagarsi una quota dei loro studi. Tra l'altro, essendo un progetto che ha avuto un grande successo, l'anno scorso l'abbiamo limitato a 100 studenti, quest'anno come minimo verrà raddoppiato se non a duratura triplicato. Quindi i ragazzi dai 200 ai 300 che verranno utilizzati durante l'estate per i lavori al servizio della provincia.